Quello che ti dico oggi è il miglior personaggio che devi assolutamente scegliere Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovissimo video sul mio canale Io sono DaviZombie e oggi sono qui con Genshin e Nathalem per parlarvi dei personaggi importanti tra cui scegliere per il personaggio 5 stelle gratis standard Bene sì perché per chi ancora non lo sapesse, per chi ancora non ha avuto l'opportunità di giocare a Genshin con Nathalem abbiamo la possibilità di andare a prendere un personaggio 5 stelle gratuito tra i personaggi standard, probabilmente qualcuno di voi potrebbe averlo già preso anzi se l'avete già fatto mi raccomando fatemi sapere nei commenti se tutto siete d'accordo con quello che dirò adesso nel video se avete fatto la stessa scelta mia oppure una delle scelte in base a ciò che dico nel video oppure comunque come vi siete mossi per scegliere il personaggio 5 stelle gratuito in ogni caso per prendere questi personaggi 5 stelle è molto semplice un personaggio ovviamente dovete aver completato la primissima quest praticamente di Genshin una volta che l'avete fatto si sbloccherà questo evento che adesso io non ce l'ho più però perché l'ho fatto però scompare qui negli eventi che è questa immagine che vi metto qui dove sta qui comunque qui adesso poi premendo su quell'evento potrete andare a selezionare uno dei personaggi vi verrà mostrato per ogni personaggio se ce l'avete e se ce l'avete quale costellazione avete ma comunque pure se ce l'avete c6 potrete comunque scegliere al massimo vi daranno delle star glitter che potrete utilizzare poi tranquillamente all'interno del negozio ad esempio per comprarvi altre pool i personaggi tra cui potete scegliere sono i personaggi standard quindi Deya, Keqing, Mona, Cici, Jin, Tignari oppure Diluc personalmente io ritengo che ci siano due modi di scegliere in realtà tre ovviamente quello secondo l'estetica secondo chi vi piace di più quindi quello lo mettiamo un attimo da parte oppure due uno per i nuovi giocatori e l'altro invece per i giocatori che sono più di lunga data che stanno già da un po' di tempo che ne so giocate già da un annetto un paio d'anni o addirittura tutti gli anni che sono passati finora quindi per cominciare con i personaggi con chi gioca da meno tempo i nuovissimi giocatori il primo della lista secondo me è proprio Tignari Tignari è un DPS dendro io ce l'ho basso perché non lo uso però lo vorrei utilizzare Tignari è un DPS dendro probabilmente il miglior DPS dello standard che può portarvi in tutte le regioni fin dai primi livelli è un utilizzatore di arco è un personaggio 5 stelle che utilizza l'arco come arma quindi anche e soprattutto per voi che siete nuovi giocatori è molto utile per tutta la miriade di sfide che troverete proprio da fare in sé con l'arco quindi per esempio questa è un'ottima scelta considerate che raggiungere Sumeru non è limitato quindi ad esempio in Azuma voi dovete fare la quest però se volete andare a Sumeru vi basterà semplicemente proseguire da Liyue e arriverete tranquillamente a Sumeru quindi tutti i materiali, gli artefatti tutto quello che vi serve per livellare Tignari lo potete fare tranquillamente anche agli inizi soprattutto i materiali dei boss e per livellarlo quindi non è limitato dalla quest e è il personaggio principale che io consiglio a tutti i nuovi giocatori di andare a prendere successivamente consiglio assolutamente Mona personaggio 5 stelle catalizzatore Hydro vabbè io non la sto utilizzando quindi non la vedete buildata è un personaggio che in termini di esplorazione è utilissima perché considerate che lei quando si muove va sotto terra e si muove molto velocemente con questa sua abilità e soprattutto nelle aree acquatiche è molto utile fornisce anche un'ottima applicazione Hydro e ricordatevi che i suoi talenti vi permettono di andare ad amplificare i danni dei nemici quindi assolutamente dei boss del vostro team quindi assolutamente un'ottima scelta in termini di supporto ma anche di danni considerate che Mona è di Bondstat quindi non avrete alcun problema a prendere i materiali seconda scelta come terza scelta io andrei nell'altro supporto ossia Jin Jin personaggio anemo utilizza la spada è un personaggio a tutto fare fa danni, fa supporto, fa healer è veramente ottima può infliggere danni da caduta in nemici considerate che la sua abilità vi permette di risucchiare questi nemici e spedirli quindi ad esempio potete buttarli giù nei primi livelli dell'abisso li potete buttare giù dalle montagne potete fare questi danni da caduta che non sono male, vi aiutano molto guarisce tutto quanto il team ha la barza che le permette di guarire il team e non solo ha degli ottimi danni che vi permettono di iniziare tranquillamente lei per esempio è anche un ottimo sostituto se nel caso volete sostituire Barbara lei è un ottimo sostituto di Barbara quindi questa è la mia terza scelta come quarta scelta a questo punto ritornerei sui dps e andrei su Keqing Keqing dovete sapere per i nuovi giocatori che prima che arrivasse il dendro era un po' bassina insomma non era proprio la scelta principale principalmente perché veniva utilizzata molto anche per il physical mentre invece con l'arrivo del dendro Keqing è migliorata tantissimo ed è un dps molto veloce e considerate che è facilissimo utilizzare è un personaggio spada e electro può essere utilizzata soprattutto nell'esplorazione perché la sua abilità vi permette di teletrasportarvi in giro quindi può essere utile per esempio se dovete andare a farmare dei bruttissimi materiali in giro per le montagne di Liyue lei può essere utile perché vi sparate verso l'alto raggiungete tranquillamente più velocemente delle aree che si trovano in alto ma non solo perché Keqing può essere appunto come vi dicevo prima molto utile se decidete poi di aggiungerla in team con i personaggi dendro quindi ad esempio con Traveler dendro con Yao Yao con, non lo so, con lei e così via più che altro ricordatevi che se mettete in team con i personaggi dendro dovrete poi andare a livellare questi personaggi andando a Sumeru senza problemi come vi ho detto Sumeru non è limitante diciamo a pari livello con lei aggiungerei anche Diluc per i nuovi personaggi e per i nuovi giocatori è un ottimo DPS Pyro vi permette di fare tanti danni tranquillamente grande personaggio DPS può aiutare con l'applicazione Pyro anche per quanto riguarda diversi puzzle che potreste trovare oppure essendo una Claymore lui è in grado di aiutarvi a rompere facilmente le rocce se avete bisogno di farmare rocce portatevi una Claymore vi portate Diluc e fate male senza problemi lo mettete in team ad esempio Vaporizzazione insieme a Shinshu che potreste avere tranquillamente insieme a Sucros che potreste avere come personaggio Nemo e avete fatto un ottimo team Vaporizer ricordatevi di abbinarlo insieme a Bennett perché è pazzesco infine gli ultimi due per i nuovi giocatori sono Deia che purtroppo secondo me soprattutto per i nuovi giocatori forse non è il massimo se poi riuscite a portarla a C1 già è più utilizzabile comunque fornisce resistenza nel vostro team all'interruzione insomma non vi interrompe il nemico mentre state combattendo ma il gruppo comunque subirà dei danni quindi comunque non è che vi protegge totalmente vi permette di non essere interrotti ma comunque subirete danno ha un danno utile ma se stai cercando un personaggio Pyro DPS come dicevo prima vai su Diluc e non su Deia diciamo che questo discorso va sulla costellazione ad esempio se voi avete già Deia e la fate C1 allora forse Deia potreste anche prenderla se però volete avere un DPS Pyro e siete entrambi sul C0 scegliete Diluc in quel caso infine ci sta Cici Cici io la metterei comunque come ultima scelta perché allora considerate che per me Cici è la migliore healer del gioco il problema è che fa solo quello quindi non la sfrutterete bene non la sfrutterete perché ha altissimi potenziali di guarigione però ha dei recuperi lentissimi ci mettete un sacco di tempo a fare la burst ci mettete non genera praticamente particelle non è buona per fare applicazione Crio in altri team dove vi serve ad esempio un personaggio aggiuntivo Crio quindi non avrete veramente necessità di utilizzarla molto spesso in termini di guarigione Jin è molto meglio quindi se dovete scegliere un healer a questo punto scegliete Jin diciamo che Cici purtroppo è invecchiata male già agli inizi non era chissà il grandissimo personaggio quindi per me è da tenere come ultima scelta ma adesso passiamo invece ai giocatori che giocano da più tempo perché lì le cose cambiano un pochino la lista io ve la inverto cioè non è che ve la inverto però ve la faccio diversa ecco perché se giocate da più tempo probabilmente anche a causa delle costellazioni vi troverete con un bel po' di costellazioni sui vari personaggi e il miglior personaggio secondo me che potete andare a prendere da tutta quanta la lista è Jin ovviamente ragazzi dipende anche in base a ciò che vi serve nel senso se avete già abbastanza supporti ma non avete DPS cambiate però io vi faccio questa mia idea in base a un account generico ecco mettiamola così Jin potreste già trovarvi con qualche costellazione Jin comunque rimane un'ottima scelta perché è un supporto se hai furina Jin è uno dei suoi migliori guaritori e può anche fornire gli effetti del set del Viridescent no considerate che non ce l'ho abilitata però se voi avete Cacciatrice Smeraldo ricordate che Cacciatrice Smeraldo vi dà dei bonus con quattro pezzi che vi aumenta i danni del turbinio e riduce la resistenza dell'avversario quindi se voi mettete dei personaggi che fanno danni elementali quei nemici subiranno più danno di quell'elemento quindi Jin può essere inoltre a C4 un grandissimo supporto per Xiao oppure per Wanderer quindi attenzione questa è un'ottima scelta in tanti casi sia se utilizzate Xiao sia se utilizzate Wanderer sia se vi serve un supporto un healer lei considerate che comunque fa danno se l'ha abilitata e sub DPS fa comunque abbastanza danno Nemo quindi rimane comunque la scelta principale allo stesso livello io vi metto Mona Mona è comunque uno dei migliori buffer one shot che ci sono nel gioco grazie alla sua burst se la mettete soprattutto con dei DPS che fanno vaporizzazione oppure freeze congelamento per esempio con Ayaka vedrà un grande valore se non hai qualche personaggio ad esempio come Furina oppure Kazuha quindi lo so che sono personaggi diversi però sappiate che in mancanza di Furina per esempio io vi consiglierei di andare a mettere Mona Mona è un'ottima scelta anche per le costellazioni aumentare le sue costellazioni e secondo me è un'ottimo affare parlando invece dei DPS a quel punto la prima scelta resta sempre Tignari io Tignari ve lo metto comunque come prima scelta DPS o comunque come terza scelta in questa mia lista per i giocatori più di vecchia data Tignari resta comunque uno dei migliori DPS dentro se hai una squadra quicken quindi con dei personaggi electro è ottimo voi fate lui con un altro personaggio dentro un personaggio electro e un altro personaggio electro per esempio lui con Naida poi gli mettete Fischl per esempio e non lo so un Ayamico oppure potete mettere uno scudo che può essere Baizu oppure ci può essere Zongli Tignari è davvero ottimo facile da utilizzare si adatta in tanti team quindi ve lo rimango come assolutamente prima scelta DPS terza scelta nella lista io poi ragazzi andrei su Dayan in questa lista per i vecchi giocatori però ve la metto solamente se avete già l'avete già trovata se non l'avete trovata comunque forse non ve la metto altissima se invece l'avete già trovata io vi metto prima Deia e poi Diluc l'applicazione di Deia fuori dal campo e la resistenza all'interruzione sono molto buono soprattutto per esempio se avete Arlecchino se avete trovato Arlecchino Arlecchino e Deia in team funzionano bene forse non la scelta principale però se avete poca scelta di personaggi Deia può essere un'ottima alternativa a priorità su tutti se avete già tutti quanti i personaggi standard se l'avete già trovati tutti quanti io vi dico a sto punto prendete lei lei più aumentate le sue costellazioni e più forte diventa se però volete mantenervi su Diluc che io vi metto subito dopo Diluc comunque resta un ottimo DPS Pyro anche se nel tempo ne sono usciti diversi se avete già trovato che ne so appunto Arlecchino avete avete Jaming avete Utao avete tanti DPS Pyro forse non è la scelta principale in ogni caso se avete Shiyun considerate che Diluc va veramente bene insieme a Shiyun aspetta che non trovo Shiyun eccola qua se avete trovato Shiyun se voi avete Shiyun che proprio per esempio giocate che ne so con Jaming con Shao sappiate che anche insieme a Diluc è un'ottima accoppiata quindi in quel caso Diluc potrebbe essere un'ottima scelta però se avete altri DPS Pyro non sarà la migliore scelta che potete fare infine io vi metto Keqing perché Keqing a questo punto se siete giocatori che giocate da tanto tempo potreste avere tanti altri personaggi Pyro e Electro che utilizzate potreste avere dei team col Dendro superiori a quello con Keqing quindi Keqing è più una scelta di o non ho niente ho pochi personaggi oppure mi piace quindi voglio giocarla però io ve la metto in fondo alla lista e poi in fondo alla lista ragazzi anche per i nuovi giocatori lascio comunque Keqing Keqing soprattutto per i nuovi giocatori probabilmente è un personaggio che prenderei veramente solo come che io consiglierei di prendere solo come collezione nient'altro solo come collezione perché per i vecchi giocatori è realmente inutile totalmente inutile quindi ci sono anche personaggi 4 stelle che hanno un kit superiore a lei basta pensare a Charlotte infine ragazzi vi dico quello che ho fatto io è che è un'idea che potreste avere ossia io avendo fatto da poco Jin e avendo tutti i personaggi standard che tra l'altro non utilizzo non utilizzo veramente avendo fatto da poco Jin C6 ho deciso di prendere ulteriormente Jin dato che non utilizzo questi personaggi praticamente vorrei utilizzare Tignari tra tutti ma non è una grande priorità ho scelto di prendere un personaggio che avevo già C6 perché perché ho bisogno invece di pull per prendermi personaggi evento quindi avendo già Jin C6 ho preferito scegliere il nuovo Jin così da ottenere le star glitter per lo shop e a quel punto mi sono comprato 5 pull gratis che utilizzerò invece nel banner evento per prendermi personaggi che invece sono nuovi e che voglio utilizzare tutto qui ricordatevi che l'evento questo qua dei personaggi 5 stelle è un evento che ci sarà ogni anno ma che è un evento infatti adesso durerà fino all'8 ottobre dopodiché dovete aspettare l'anno prossimo quindi se non avete ancora scelto avete tranquillamente un mese e passa di tempo però sappiate che poi salterà quindi anche se sei nuovi giocatori iniziate a giocare entro l'8 settembre altrimenti se ne parlerà l'anno prossimo fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate di questa mia guida se vi trovate più o meno con quello che vi ho detto consigliate anche voi ai giocatori il vostro pensiero su come scegliere il personaggio 5 stelle fatemi sapere tutto nei commenti così le discutiamo insieme io ragazzi vi aspetto anche su twitch dove parliamo insieme e ci vediamo in live mi raccomando iscrivetevi al canale e attivate la campanellina e noi ci vediamo anche su tiktok e su instagram e qui con un nuovo video ciao